Perrotta terzo posto in classifica, vittoria nell'ultimo turno, insomma le cose per il Teramo si stanno mettendo per il verso giusto. E per Marco Perrotta invece? Siamo contenti di questa prestazione e di questa vittoria. Non guardiamo la classifica perché come ci ha insegnato il mister le prestazioni e le vittorie vengono prima di tutto. Poi la vedremo a fine campionato. Il momento negativo di Perrotta è terminato, è passato? Non c'è stato secondo me un momento negativo, c'è stata magari una partita sbagliata con un errore. Grazie al mister che mi è stato vicino e mi ha dato molti consigli per migliorare sono riuscito a cancellare questo momento e a rialzarmi. I fischi della gara con la propria scienza sono dunque ormai un lontano ricordo? Io del propria scienza non ho sentito nessun fischio, sentivo solo i miei tifosi che mi incitavano e il mister che mi dava consigli. Per quanto riguarda il prossimo turno c'è il tutto cuoio, una gara che dovrà essere affrontata con tutte le cautele del caso. Perché questa, come le Toscane, è notoriamente una squadra molto ostica. Sì, è una squadra molto forte, l'abbiamo vista. Cercheremo di dare il meglio e di preparare al meglio questa partita per consentire che questo periodo positivo continui. Periodo positivo che secondo te può essere arrivato anche per il cambio di modulo? Sicuramente non è facile cambiare modulo in questa parte di stagione e poi applicarlo al migliore dei modi. Ci stiamo lavorando settimana dopo settimana, ci sta dando dei risultati quindi credo che va bene così. La rotta però ha cambiato posizione sul campo? Sì, faccio il terzo di difesa, è quello che già facevo l'anno scorso quindi io mi sono trovato subito bene. Poi comunque con i miei compagni di difesa che mi aiutano molto come Speranza e Dieguita che sono più esperti mi stanno dando una grossa mano.